Ripartono i tornei di eccellenza EC1 di calcio a 5 e slittano al 30 gennaio quelli di promozione prima e seconda categoria. Questa è la decisione già preventivata presa dalla LN di Sicilia che di fatto rinvia di un'altra settimana la ripresa dei campionati dilettantistici. Il prossimo weekend tornano invece i campionati di preeminente interesse nazionale. Il presidente della LN di Sicilia, Sandro Morgana, con apposita delibera, ha stabilito il nuovo calendario dell'attività di calcio regionale. Si riparte con la prima di ritorno, sabato con gli anticipi e domenica rivedremo in campo le formazioni di eccellenza maschile e femminile, quelle al via del campionato di Serie C1 di calcio a 5 maschile e femminile. Il 29 e il 30 gennaio toccherà i campionati di promozione di prima e seconda categoria di Serie C2 calcio a 5. Decisione presa dopo un confronto con le società. Il presidente Morgana ha spiegato che, visto il numero delle squadre al via nei vari giorni, si è provveduto a concedere uno slittamento di una settimana ulteriore, consentendo in questo modo a tutti gli atleti di completare l'iter della vaccinazione e di ottenere il super green pass obbligatorio per poter svolgere l'attività. Gel FC in promozione, SSD gel in prima categoria, gel a calcio in seconda, ne approfitteranno per recuperare quei calciatori infortunati o ancora peggio, reduci da positività al Covid. Fermo restando così le cose, il gel FC tornerà in campo domenica 30 gennaio a Canicattini, la SSD gel al pressi contro lo Scicli in prima categoria, mentre nel girone B del torneo di seconda categoria il gel a calcio giocherà in trasferta sul campo del Muxar. Confermato l'inizio del girone di ritorno nei campionati giovanili ragionali Under-17 e Under-15 per fine mese, scatteranno invece nella settimana successiva, weekend dal 5 al 6 febbraio, i campionati provinciali di leghe giovanili, dato anche il numero elevato di recuperi ancora da disputare. Confermiamo la necessità in questa fase di avere tutti insieme un elevato senso di responsabilità, ha detto il presidente dell'LNE di Sicilia, Sandro Morgana, riprendiamo a giocare in sicurezza e nel rispetto delle regole che prevedono per tutti i soggetti del gruppo squadra il completamento dell'iter vaccinale necessario per il rilascio del Super Green Pass.